Ragazzi, allora, volevo dire, avvisarvi che questa intro, questa anteprima non intro, scusatemi, la sto registrando dopo aver registrato il video Volevo scusarmi perché è stato un problema nel video stesso perché ho sbagliato a mettere un'impostazione qua su OBS L'audio si sente e non si sente del gioco, il nostro si sente alla perfezione Questo problema purtroppo è capitato su questo video che è il prossimo di domani, quello che vedrete domani Quindi purtroppo ragazzi è successa questa cosa, quindi abbiare pazienza ma ho risolto Detto questo ragazzi, io vi lascio al video e buona visione a tutti Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Zambaione03 Ragazzi, insieme finalmente, dai, sanno che mo' lo vedete pure Ciao a tutti Spero che state bene e oggi speriamo di divertirci Perché, raga, che cosa andremo a fare? Praticamente lui proverà il visore della realtà virtuale che non ha mai provato Insomma, non ti sparerò niente, ti dico solo questo perché già cominci con la grande proprio E niente ragazzi, allora ci interessa, voi ci trasportiamo su Ford, se dici su Ford No Su Ford, su Resident Evil Che cosa Dai c'è una bottiglia Fai Rocco Vuoi un gocciole birra? Eh, infatti, come no Infatti Vabbè dai, siamo pronti Ok Oh cavolo Allora Allora Ok, allora, così faccio la luce diciamo Sì No, oh, da vedere se c'è sta qualcosa No, no, c'è niente Vite che non c'è niente Vai, vai Dritto per dritto Sì Che devo fare? Premo X Sì, che dove c'è scherzo un X Sì, sì Allora, raga Oh, la mia mano Bro, mi dai una gocola Oh, metà è la gocola Oh, mi sai che ti hai cucciato metà, eh Eh no, l'alzi Eh, ok Ok, la mosca Levate Cominciamo cosa? No, non si apre, aspetta Ma succede qualcosa di molto Che fai, ti Che penso io Levate Oh, ma che stai impazzito Niente, non do di niente E poi no, mi chiamo Oh, è scomparso il tizio Buono È buono? No, ma spaventamo questo No, che ho visto? Non ho visto nessuno Prima te però Perché se menti caso sul cielo per casa Te mangio una te mica a me Messo Oh Oh Ma che posticino che mi hanno trovato Infatti Però mi esce qualcosa di sicuro Oh, non lo so Davide, te sai che cosa esce? Eh, no Ok No, prima te No No Che cosa vedo? Eh, monnezza Oh, bro Che s'affocco? No, bro Che c'hai? Che hai fatto? Sanoso Oh, staccio Tu Donna quanto sei brutto No, eh Non c'è nessuno Figari Ok Oh Oh, porcazzotto Il botto ha guardato Oh, che è? La nasa una scarica il bagno? Che bozze Ok, non è in una persona È un dudu Ok, che vedete? Si è chiusa la bulla la porta A mo' se c'era qualcosa di riquicante Sì, ora guarda davanti a te proprio No, non guardo Oh, cazzo Ma c'è la c'era Ma c'era c'era Ma c'era c'era Io un calzotto Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Non guardo Ma chi? Ma chi? Ma che sbattica come c'era? Dai un'altra botta Un'altra Bello È morta Schiaccio Schiaccio Eh no Ah no Non lo vedi È fusibile Eh Quello No Vai a bianco Ok Questo qua Sì Adesso devi tornare sopra Sopra Dove ci stavano le scale Iniziare Quindi riusci da qua Ok quindi Ok E poi rienta a sinistra Ok Un torrito Esce lei E poi un torrito Ecco Sì Ok Comunque Regà Io vi saluto Se mi saluta Pure lui Ciao a tutti Ci vediamo alla prossima Ciao regà